signori e signori buonasera a tutti ci troviamo questa sera a mati cannavese dove tra qualche minuto presenteremo il candidato sindaco della lista mati domani in occasione della tornata elettorale del 10 giugno 2018 qui con noi abbiamo il candidato che si chiama maurizio arbezzano con cui diamo il benvenuto ringrazio tutti sono maurizio arbezzano 49 anni lavoro all'asl di veneria sono un tecnico della prevenzione e mi occupo in particolare di sicurezza negli ambienti di vita e di lavoro ho sempre diciamo partecipato alla vita sociale di mati sin da piccolo perché comunque sono entrato nella banda all'età di sette anni e poi man mano nell'oratorio ovviamente non come anche come cherichetto nella 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 parrocchia e successivamente abbiamo organizzato come direttivo fatto parte del direttivo di del palio dei borghi e quindi per alcuni anni abbiamo organizzato questo evento sportivo amati che è stato un momento di aggregazione divertimento ma è importante per il nostro paese la mia famiglia è sempre stata impegnata abbastanza politicamente sin dal mio papà poi mia sorella che è stata anche la prima donna sindaco nel 2004 2006 adesso ho deciso di scendere in campo visto la diciamo la partecipazione del gruppo delle persone che fanno parte di questo gruppo di mati domani che hanno hanno dato diciamo la fiducia alla mia persona e io sicuramente darò il contributo tecnico che posso dare per quanto mi riguarda e ovviamente conosco le specializzazioni di alcuni appunto del gruppo e anche diciamo l'esperienza politica che in questo gruppo alcune persone hanno già dato e dimostrato negli anni passati per cui non mi sento solo in questa in questa diciamo avventura senza entrare nel vivo del programma elettorale che credo che sia ancora per non scoprire le carte top secret dopo quasi un anno di commissariamento del comune di mati che cosa pensa che manca al comune di mati in questo momento si ci sono ovviamente molte cose in campo il programma hanno già iniziato il gruppo insomma subentrato a un certo punto però hanno già egregiamente lavorato per cui sicuramente ho trovato già una base su cui su cui riflettere è stato bello in alcune riunioni a cui ho partecipato perché sono emersi altri elementi che sentivo particolarmente caro cari sicuramente la sicurezza è uno di quei temi che principalmente mi riguarda dalle scuole anche alla viabilità e comunque alla anche la sicurezza dei cittadini e poi ovviamente gestire diciamo anche lì le strutture scolastiche e dell'asilo in quanto comunque come genitore di due piccole bimbe adesso ho potuto diciamo entrare nel merito di questi ambiti e vedere delle cose che possono e devono essere fatte per migliorare la situazione attuale cosa pensa che manca in questo momento al comune di mati nel fatto di associazionismo nel fatto di aggregazione per i giovani questo è uno delle associazioni se ne sono molte amati adesso fortunatamente sono anche sono anche nate nuove associazioni facendo parte ho fatto parte anche associazioni sportive comunque devo dire che negli anni abbiamo avuto un no come come riferimento comunale un aiuto ecco però c'è da fare un pochettino di più anche per ravvivare il paese e sicuramente la forza giovane che c'è all'interno di questo gruppo presumo anche conoscendo il programma presumo che uno sforzo lo farà sicuramente in quella direzione e ci sono delle belle belle idee in campo signore e signore ringraziamo Maurizio Arbezzano per averci gentilmente concesso questa intervista e vi rimandiamo ai prossimi servizi di Obiettivo News grazie a tutti grazie a tutti